Sono iniziati gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione, più semplicemente gli esami di terza media per quasi 600.000 studenti. Durante la settimana in corso, secondo calendari autonomi delle scuole, i ragazzi dovranno svolgere le prove scritte di italiano, matematica e lingue straniere. Domani è invece in programma la prova in Valsi, che è la stessa su tutto il territorio nazionale. Per rispondere ai quesiti della prova in Valsi, i candidati hanno a disposizione 75 minuti per ciascuna materia, italiano e matematica. Il voto massimo è di 10 decimi. Subito dopo le prove scritte, gli studenti affronteranno gli orali sulle materie dei corsi di studio. Si tratta dei primi esami per gli studenti, un momento di crescita e anche di cambiamento per gli alunni, che dal prossimo anno si ritroveranno in altre scuole con altri insegnanti e altri compagni di classe per intraprendere un nuovo percorso di vita e di crescita.